Armin Miles cannibale di Rottenburg non l'ho capito molto bene ma si è mangiato la carne di quest'altro tizio Ciao, sono Annabelle, la studenta di Rasmus Sono Giovannella, vieni qui Ciao, sono Federica, andiamo via? Dai Fede, proviamo a parlare in tedesco Hallo, sono Francesco, hai una bella... Vedete che non lo sai dire neanche tu Io ho capito un po' l'italiano Ma, hallo, mi voglio parlare No, comunque tranquilla, non ci mangio un'amica Dai ragazzi proviamo a parlare in tedesco, siamo studenti di Lina Dai, ci riprovo io No, ti sei dimenticato il NICHT Scusate, voleva dire No, non ci mangio un po' l'italiano No, non ci mangio un po' l'italiano Ma, vieni, ci vediamo la formazione Ok 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 Ciao Oddio! Nel prossimo momento sei tu da! Gio, Gio, Francesco aveva ragione. Quello aveva un cadavere dentro la busta della spazzatura. Mi ha minacciata, io chiamo la polizia. Guarda, smettila. Avrei freinteso come sempre. Almeno Lila butta la spazzatura. No, no, ha detto Nextest Malby Studran, capito? Io dentro quel sacco. Cosa? Niente, che sei paranoica. Ehi, Zusa! Ciao, bella! Oh, ragazzi! Ciao! Sì, stavamo purendo, quindi. Volete mangiare? No, 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 stavamo giusto scendendo. Ciao! 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 Habe ich etwas Falsches gesagt? Nein, nein. Wissen Sie sich? Alles gut! Allora, ragazzi, vi voglio proporre un Backalcolico. si chiama non ho mai. Praticamente ognuno di noi deve dire qualcosa che non ha mai fatto e chi l'ha fatto deve bere trincare non. Ehm, wer sta ce l'ha? Ricame eine! Ich habe niemanden von euch zu versen gern. Ma non ho capito cosa ha detto. Per quello l'ho venuto. Guarda, non sapevi. Ho capito solo voi mangiare e volentieri. Secondo te che cosa intende dire mi hanno proprio capito bene. Ferrer, che sei buona, buona da mangiare. Basta, ora tocca a me. Non ho mai provato attrazione per nessuna di voi. Ma Augusto, chi sarebbero? E secondo te? Tu bist so süß. Du sape mal di italienisch. Ti manchou? Tu sape a me tutta ingesima. Non, è una cannibale! Perché? È bello! Ciao! Ciao! Hi! Tofu? Cosa ci fai seconda con il tofu e la ninja del vino? Na und? Sono vegetariana! Ciao ragazze, avete visto Francesco? Ich habe rote betesaft gemacht. Einen schluck! Zum Wohl! Auf Francesco! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501